Mi ha espulso Ronaldo e adesso abbiamo un calcio di rigore a favore, in dieci! E questo non l'ha buttato fuori, cazzo di merda! Go! To! To! In dieci! In dieci in montaggio! Sì, cazzo! Sì! Potete! UEFA di merda! Ho finito il primo tempo, nonostante Birch e quello schifo della UEFA, siamo in montaggio 1-0 a Valencia. Adesso speriamo di tenere, con l'uomo in meno, con l'espulsione inventata di Cristiano Ronaldo. Speriamo di riuscire a reggere per 45 minuti. Ragazzi, sarebbe veramente un'impresa, però è difficile, perché comunque in dieci la Valencia è dura. Soprattutto con l'invenzione inventata, qualcuno mi deve spiegare come è possibile che pareco, che salta qua, prende qua col piede a Cansello e non venga espulso. Allucinante, ragazzi, allucinante, una vergogna, sta UEFA è veramente una roba schifosa. È risultato ancora in bilico ed è una cosa vergognosa. Un po' perché abbiamo sbagliato troppo noi, un po' per la porcata che ha fatto Camorosa. Che blocca pure lo streaming bastardo qua. Rigore! Rigore! Rigore 2! Rigore! 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 Speriamo, dai ragazzi! Eh, netto! 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 E' ancora l'ha munito e basta! E' ancora l'ha munito e basta! Il munito deve essere già fuori, dall'inizio della partita. E' netto va a fare lo stronzo rompi di coglioni. E' netto sta andando a fare lo stronzo. Ho fatto bene la Juve a cederlo. Infame. Che schifo! Che schifo che sto vedendo! Dai, Miralem, ti prego! Ti prego, Miralem! Miralem! E' ancora l'ha munito! GOOOOO! Sei! Vai! Sei! Doppietto di Pjanic! Tutte due su rigore! Juventus 2! Valencia 0 a Vestaglia! 2-0! situazione adesso insomma è vero che ce l'ho in meno mancano 40 minuti però è anche vero che sei avanti di due gol due gol è dura ragazzi non è ancora fatta non facciamo la cazzata di pensare che la partita sia finita intanto un secondo sul postone a Cefirin l'abbiamo infilato bravo Miralen due rigoli su due guardate che non è facile ho visto sbagliare i giocatori quando tirano due rigoli spesso ho visto giocatori cannabili bravi bravi ragazzi minchia mi sta piacendo la Juve veramente io non so come si possa veramente oggi dire qualcosa sulla prestazione della squadra che sta giocando veramente bene contro una porcata dietro l'altra della UEFA è veramente incredibile grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti meno male, meno male, fuori, fuori Rodrigo ha avuto un'occasione abbastanza importante e imbuffalito giustamente Allegri perché giustamente gli dice cavolo da solo in area qui è saltato da solo Rodrigo insomma qua Borucci sarà un po' perso ma anche Bernardeschi e Rugani non in tre a marcarlo sento Allegri è una furia, tre minuti alla fine topico della partita perché manca sempre meno che pose della Juve meravigliosi che cantano tutti a Casale e Gaia sbaglia totalmente il cross ed è rimesso dal fondo grazie a tutti a lot to think about the sports will already be turning to Sunday to Villarreal team that he used to manage was in charge of them for three and a half seasons got them to the semi-finals of the Europa League, got them back into La Liga and he's got to be thinking about when to get the season going Soler he's going to have another go Valencia si affida solo a tir da fuori Bernardeschi ha fatto una partita pazzesca pazzesca io comunque voglio vedere se qualcuno ha coraggio dopo questa partita di criticare questa squadra e questo allenatore voglio vedere se qualcuno ha coraggio veramente di riuscire a criticare questa squadra e questo allenatore dopo questa partita al Nestaia al Nestaia cos'è? rigore il altro rigore è Valencia perché? non ci credo è ammolizione per Rugani cos'è? ma ragazzi ma da ma è allucinante allucinante ragazzi non ha fatto niente 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 non c'è niente non c'è niente pazzesco pazzesco eppure già arbitro da bandire a vita arbitro da bandire a vita ma non solo della Champions veramente come vi ho detto questo non deve essere più arbitrare da nessuna parte veramente uno scandalo e va pareco quello che andava espulso nel primo tempo per gamba tesa su cancele vergognoso vergognoso che valessero fuori a piedi una partita che sembrava chiusa per un'invenzione arbitrale David Pareco contro Chesnix e Chesnix è parato e Chesnix è parato dovete infilarlo tutti sapete dove? Chesnix si rimane così a tempo scaduto meritato giusto così non meritate niente Valenziani mangiata aia non meritate niente è finita è finita abbiamo vinto due a zero Valenza con un'arbitraggio vergognoso ci sentiamo per i prossimi porca miseria ma spacco tutto abbiamo mostrato